Dopo gli 8.000, da un bel applauso da voi, un benvenuto a questa terra meravigliosa, alla Sicilia, a Sommadina, da Grigento e a tutti quelli che lavorano fuori, non dimenticatelo mai, spacchiate lilla sempre di essere siciliane, sempre allora, barzellette, barzellette, questo è il vestito che vedrete il 23 di agosto sul canale 5 che mi permette per la seconda volta di vincere con le barzellette, allora, siccome io penso che ha tutto il mondo e il paese, ma comunque è elettrica, mi hanno incatenato, siccome io penso che ha tutto il mondo e il paese, allora ambientiamo tutte le barzellette di stasera a Sommadino, in provincia di Cattaressetta, prima che a Puglio che a Malacombassi, allora, quartiere popolare di Sommadino, quando a gente si mettono da ucca a una persona, non c'è che un potenza che a chi sta a capore, pure pure pure, può stare nella pace, c'era una signora che aveva una bambina che non era un grandietto in bellezza, ognuno che la so, a gente non faceva niente, per farcimmo capire, questa pulera si doveva accattare, chissà, c'erano un po' di frutta, appena ci vedeva una bambina, signora, ma che all'aria sta bambina, la signora ho il cuore già diventava tanto, signora andò a macellare, magari la signora mi stia andando a sentire la vicerita, signora, ma io è mosso, au, all'asilo ho avuto i macchi, mi chiedono i figli per non andare a picchiare, chi sta pulendo a scimmonio, meno male che avevo dei parenti a Milano, dicevo da che faccio, ci ho guardato qualche manzo, sono tutti, ma ho portato a Milano a costitare una canuccia che posso campare in della pace, chi sta parte un mattino, e si impacca a picchiare a Milano, alla stazione di Catania, sale il meditare, il nostro combattimento non c'è nulla, arriva, passetta, lo sono andato a prendere, signora, 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 ma che bella, chi è, ci posso giocare? Sì, c'è la caccarea... No, signora, quei che ve, ci sono casse, e sto sentando, tte 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 tte, signora, il c'ho a Pubella, ma quando anni hai? Durante i due annuzzi, e noi sa attegno, dice, ma da lì, a me da fai scappare da San Badino, e torna a camminare, e se non gli è, c'è, non lo sottando, ma chi sta più caldo, signora, il c'ho a Pubella, e ma guarda, ci stavo scappando le mani, sto so' stai andacciando la notte da so' v MELANCHI. per farsi perdonare apre la palizia che aveva della roba da mangiare talia signora signora mi scusi ma è scivio e ne mangia mandarini cosa sta cosa è accaduto? chi è ve la manderà l'applauso? è scivio e ne mangia mandarini voi lo sapete?